È indispensabile che voi abbiate seguito la prima puntata di Ciao Story La Terapia, altrimenti ci capireste ben poco di questa seconda puntata e del seguito della serie. Quindi vi invito, chi non l'avesse ancora vista, a guardare la prima puntata. E ora andiamo con lo scambio di messaggi della Ciao Story La Terapia giorno 2. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.